Si trova a due passi dal centro di Belluno in via del Piave 11 e 13 perché per renderla più spaziosa e accogliente sono stati uniti due appartamenti al piano terra dello stesso condominio. Si chiama Casa Serena ed è la terza struttura gestita in Triveneto dalla cooperativa FENIS, nata a Pordenone nel 2013 anche per rispondere a un'esigenza umana, quella di dare compagnia, sollievo e assistenza alle persone anziane ma autosufficienti. L'idea è quella di ristrutturare abitazioni in disuso per rendere le strutture di accoglienza in forma residenziale, così da alleviare la solitudine condividendo i pasti e i momenti di svago. Casa Serena, che si accoda a Casa Clelia e Casa Lucia, è composta da 5 camere doppie che possono ospitare fino a 10 persone, 4 bagni attrezzati, un salone comune, una cucina, una lavanderia e un magazzino, compresa l'assistenza 24 ore al giorno. È un'alternativa concreta alla casa di riposo e alla vita in case poco frequentate, perché la cooperativa si occupa anche di organizzare attività di animazione, stimolazione cognitiva e interventi di gruppo, con la possibilità di coinvolgere anche i familiari. Sono compresi inoltre il servizio di trasporto, ristorazione e pulizia dei locali. Tra gli ospiti di oggi si contano anche due persone bellunesi. La nostra moto è quella di non portare fuori dal loro abito queste persone e quindi mantenerle più o meno nelle vicinanze di dove hanno anche vissuto, hanno passato molto della loro vita.